La vincitrice di Amici è di nuovo alla ribalta con il suo nuovo album intitolato Schiena che uscirà il 9 aprile 2013, mentre il singolo Amami è uscito il 19 marzo e in due soli giorni è già prima in classifica su iTunes. Il titolo Schiena spiega Emma vuole significare il cammino che ha fatto in questi anni, cioè crescendo ha imparato a non avere preconcetti, ad accettarsi nei pregi e nei difetti, ad amarsi e appunto a camminare con la schiena dritta per aprirsi meglio al mondo, quindi questo disco mostrerà la maturità della cantante. In questo album si parla di collaborazioni con Gianna Nannini e niente poco di meno che il batterista funk americano Miles Johnson, ma su questo non ci sono ancora notizie ufficiali. Quello che è sicuro è che la cantante Salentina ha fatto quest'album ad altissimi livelli e sicuramente le vendite e il successo che avrà questo disco le daranno ancora ragione.